Si ascoltano i problemi sindacali, si ascoltano i problemi delle gradatorie, delle leggi, della professionalità dell'insegnante che magari si è specializzato in greco, entra attraverso il sostegno per poi entrare di ruolo, tutto legittimo. Tutte le leggi parlano, mettono al centro lo studente. Vediamo di metterlo al centro anche lo studente disabile. È partita ormai due settimane fa una lettera di Arezzo Autismo indirizzata al ministro per l'istruzione, quello per la disabilità e al provveditorato agli studi di Arezzo, ma di risposte al momento nemmeno una. Oggetto della lettera, che nel frattempo è stata ripresa da tutti i media locali e nazionali, la mancata continuità didattica per gli studenti con disabilità. Mio figlio ha 11 anni, è un bambino autistico che inizierà la scuola media. Fino ad oggi ha frequentato la scuola primaria e ha cambiato 7-8 insegnanti di sostegno. Per non parlare della scuola di infanzia, tre anni precedenti, ha cambiato 4-5 insegnanti di sostegno. Manca la continuità, mancano anche la copertura delle ore del sostegno e più si va avanti nel percorso scolastico e meno copertura c'è. Ad esempio adesso inizierà la scuola media e la copertura è di sole 18 ore. Un problema non certo recente ma sempre inascoltato. Non per questo le famiglie sono disposte ad arrendersi di fronte a quello che è un diritto negato. Qual è la cosa che fa più male quando si è così inascoltati? Fa più male sapere che il proprio figlio ha delle attitudini, ha delle competenze e l'istituzione scolastica con difficoltà riesce a valorizzarle. Questo fa male perché poi questo si ripercuoterà nel futuro nella realtà lavorativa. Tutti i ministri che arrivano in questi anni si sono dichiarati pronti, 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 però noi, mia figlia ha 17 anni, pronti, 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 per ora non sono pronti.